In questo periodo così complesso, dobbiamo guardare al futuro con ottimismo e fiducia. Renault farà la sua parte, garantendovi in tutta sicurezza le visite alle nostre concessionarie e officine. Il giorno dell'appuntamento, nell'orario prefissato, l'accettatore vi illustrerà tutte le misure sanitarie che Renault adotta per garantire igiene e sanificazione. I nostri consulenti vi accoglieranno mantenendo una distanza di almeno un metro, indosseranno la mascherina e vi inviteranno ad igienizzare le mani. Ti verrà richiesto di indicarci il chilometraggio esatto del veicolo e il livello di carburante e quindi firmerai l'ordine di lavoro con la tua penna. L'accettatore effettuerà il controllo esterno del veicolo. L'auto sarà protetta con coperture sul sedile anteriore e avremo cura di lasciare sempre i finestrini aperti. Il tecnico Renault, incaricato del lavoro, sarà dotato di mascherina sempre nuova. Le postazioni di lavoro e gli attrezzi verranno sanificati prima di ogni intervento, così come regolarmente saranno sanificati i locali officina. Al termine della manutenzione, l'abitacolo verrà disinfettato. Le protezioni non verranno tolte fino alla riconsegna della vettura che sarà posta all'esterno. L'accettatore Renault ti accoglierà e ti illustrerà la fattura e il lavoro svolto. Il posto per il pagamento elettronico sarà disinfettato prima e dopo l'uso. Ti saranno restituite le chiavi disinfettate. Infine, ti verrà indicato dove trovare la tua auto pronta e perfettamente igienizzata. Siamo prudenti, rispettiamo le regole e presto potremo tutti insieme riprenderci la nostra normalità.